La sostenibilità in generale è una questione molto complessa che non può essere ridotta a semplice racconto di best practice, di pratiche siano esse agricole o siano esse commerciali. Nel caso di Alcenero la sostenibilità si basa su due pilastri fondamentali, innanzitutto la dimensione della filiera e ovviamente la dimensione della responsabilità. Per noi filiera però ha un'eccezione particolare, è la creazione di uno spazio di relazioni vero che non abbia esclusivamente una dimensione verticale, orizzontale, che non si limita a seguire il flusso delle materie prime, il flusso delle merci, il flusso delle informazioni che accompagnano tutti gli scambi commerciali. È uno spazio in cui noi cerchiamo di far circolare prima di tutto conoscenze dall'esterno verso l'interno e dall'interno verso l'esterno, provando a contaminarci ma avendo sempre presente un'unica direzione, che è quella di un'agricoltura pulita, che faccia bene sia alle persone che decidono di consumare i nostri prodotti e che in primo luogo faccia bene all'ambiente. Crediamo che un cibo di qualità non possa che essere un cibo che prima di tutto parte da una natura sana, parte da un suolo sano e in questo diciamo che la nostra sfida del futuro è quella di cercare di contaminare il più possibile anche gli agricoltori e di diffondere il più possibile queste idee perché crediamo che oggi l'agricoltura debba fare un atto di coraggio. Il paradosso che stiamo vivendo infatti qual è? Che l'agricoltura da una parte è la principale responsabile del cambiamento climatico a livello globale ma dall'altra parte anche l'attività che più risente di questi cambiamenti e quando dico che dobbiamo provare a fare un'agricoltura coraggiosa intendo anche che prima di tutto abbiamo bisogno di un forte ricambio generazionale in agricoltura e in secondo luogo credo che anche gli agricoltori debbano essere portatori di una cultura nuova. Fare un'agricoltura coraggiosa significa rendersi conto in modo anche sincero di quelli che sono gli impatti degli attuali modelli di agricoltura sul nostro mondo, sul nostro ambiente e cercare invece di capire che quello che dovremmo fare è provare a interferire il meno possibile con quei meccanismi biologici che la natura già perfetta con me ci mette a disposizione. Stiamo cercando di guardare un po' oltre e cercare di capire come la cultura dell'agricoltura rigenerativa e dell'agroecologia possa essere considerata quasi come la naturale evoluzione del biologico che abbiamo sempre perseguito.